Francesco Storace, candidato sindaco a Roma, ha iniziato il suo giro nelle periferie. Questo è uno dei punti principali del suo programma? Diciamo che in periferia ho ritrovato, sentirete di dirlo, tanti amici di Ipanoselli. E grazie anche a lui ho scoperto tante persone che hanno voglia di raccontare le loro storie. In periferia c'è una marea. A me ha colpito molto, ad esempio, uno degli incontri più belli che ho avuto a Casalmonastero. Dove da una parte c'è il contatto con una realtà sociale che vive condizioni oggettivamente difficili nelle case popolari dell'Ater. E poi c'è la grande contraddizione. In una città devastata da affittopoli, del piano morale, vediamo che l'Ater si permette di avere 20 appartamenti spitti, non assegnati a nessuno, gli altri 20, 13 stranieri in Roma e sono uova gli italiani. Di più, entri dentro quegli appartamenti e trovi una signora che sta facendo le pulizie. E ti chiedi, ma è la signora dell'appalto delle pulizie? No, 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 è mia moglie, mi dice la persona che mi accompagna. Come è sua moglie? Sì, perché ce le facciamo da soli le pulizie. Ah, quindi tutti quanti voi gli inquilini? No, no, sono italiani perché gli strani non ne vogliono sapere. Io mi sono stancato. Questa è la storia che precede una rivoluzione. Ha fatto cenno lei a affittopoli. Ecco, com'è possibile che addirittura sedi di partito hanno debiti o affitti irrisori con il Comune di Roma? Perché c'è un lassismo che si potrà da 20 anni, 30 anni, non so quanto. Ed è chiaro che se io sarò sindaco, dovranno semplicemente pagare l'affitto, quello che è giusto, oppure cercarsi un'altra sede. Io vorrei che le case del Comune andassero ai cittadini che hanno bisogno. Poi si può discutere su quanto devono pagare. Però il principio che la casa fa prima le persone è doveroso, è costituzionale. Quindi in primis sindaco di Roma che si batte per i diritti dei più deboli? Diciamo che questa è la costante della mia vita. Se ho pagato un prezzo politico, anche correndo a rischio e poi pagandolo di persona, di non essere rieletto mai più in Parlamento perché la coalizione mi respingeva, parliamo di anni lontani, ormai la Camera e il Senato non mi mancano affatto. E l'ho pagato proprio perché avevo una cultura e ho una cultura spiccatamente sociale che non privilegia gli interessi dei forti. Senta lei, Marchini e Bertolaso, così la destra rischia di non arrivare neanche al ballottaggio? Diciamo che è molto affollato il campo della sinistra perché ci sono Giacchetti e Morassut per il PD, Fassino ancora più là, Marchini e Bertolaso che è sempre quella storia ripendica o in sinistra. Bertolaso ci ha fatto sapere pure che era rutelliano, insomma, vorrei sapere solo ancora. Diciamo che l'unico candidato di destra sono io. Qual è la principale differenza tra lei e Bertolaso? Diciamo che lui è passato da un palazzo all'altro e da uno schieramento all'altro senza timori. Diciamo che a me si possono rimproverare le parole, a lui c'è qualche giudice che dice che ha fatto altro. Io sono garantista, sono sicuro che sia innocente, però prima di risolvere i problemi nostri risolva i suoi. Perché non è bello che dopo Mafia Capitale, che è stata caratterizzata per molto anche sulla pratica delle somme urgenze nei lavori, ci mettiamo proprio lui, insomma uno specialista del settore. Dopo Mafia Capitale noi non vogliamo più parlare di giustizia in questa città. Se non ricordo male Bertolaso qualche tempo fa voleva privatizzare, far diventare un SPA, addirittura la protezione civile. Sì, ne ha detto anche di peggio. In questi giorni abbiamo letto pure che vorrebbe considerare i Rom una categoria penalizzata. Diciamo che la ruspa è rimasta senza carburante. Ecco, ci rilenca in breve i principali punti della sua campagna elettorale. Io vorrei garantire ai cittadini che anzitutto una cosa importantissima da fare è che il Comune va rimesso in pace con i suoi dipendenti e con i suoi vigi urbani. Se loro lavorano male perché sono trattati male, non ci sarà speranza di rianimare questa città. Noi dobbiamo far sì che chi lavora per la co-città attraverso il Comune debba essere anche soddisfatto di quello che sta facendo per servire meglio la popolazione. Poi si tratta di assumere sul sindaco la responsabilità della sicurezza. Io credo che la delega la debba mantenere il primo cittadino e prendere l'assessore al bilancio. Adesso mi trovi le risorse per illuminare tutte le periferie della città perché non è più accettabile che la criminalità possa arrivare ovunque solo perché sono state buie. Accanto a questo lotta spietata all'abusivismo. Il Comandante dei Vigili deve andare davanti ai negozi e controllare chi è in regola e chi no perché altrimenti il commercio muore. Dobbiamo entrare nelle case popolari con più cittadini italiani, servizi sociali con più bambini italiani perché non è più accettabile che sia una città a misura degli altri e mai dei nostri. Queste sono le prime cose che vanno fatte da subito.